un errore del mio percorso rimane a me per sempre posso io sbagliare ma preferisco sbagliare io piuttosto che sbagliare perché ho fatto quello che dicevi tu ora buongiorno lorenzo ciao grazie di essere qua sono orato come ti ho anticipato prima l'ufficio è andato in subbuio mi fa veramente piacere averti qua e ascoltare la tua storia iniziamo da lontano dico questo se ho paura oppure no ma va tanto no ma va tu paura no no infatti no andiamo a capire dove nasci come prosegue la tua vita le scuole la famiglia i fratelli c'è un riassunto dai se io riassunto no vabbè io nasco a catania cioè sono il primo di due figli quindi quello maggiore nasco il 95 da una famiglia normale cioè mia mamma lavorava in comune e mio padre invece era un poliziotto fatto il falco per un sacco di anni cioè andava sulle moto arrestava i criminali era un po un supereroe della marvel capito però molto scuro quindi più batman direi forse nella dc ma lo faceva lì lo faceva sì sì a catania sì sì diciamo che era proprio la parte del braccio armato non so come dire c'è della polizia quella che gira in moto pronta all'azione però che vede proprio la strada però ecco la mia femminile era così c'era non altro normale poi è nato mio fratello due anni dopo che è un po che è la persona che amo di più follemente in questo pianeta terra no no vabbè io dico questa cosa perché perché sì perché l'unico che poi i mesi sono separati subito quando avevo tre anni quindi mio fratello praticamente non li ha neanche visti insieme per cui poi ci sono stati vari vari periodi della vita a volte siamo stati con nostra madre affidati a nostra madre poi non riusciva a gestirci siamo andati da mio padre quindi comunque abbiamo fatto tanti spostamenti e piuttosto che legarmi a un genitore in particolare alla fine siamo sempre stati io e mio fratello no eravamo un po una famiglia nostra se c'è la vostra bolla il vostro cerchio sì perché c'era la famiglia con mia mamma quindi comprendeva i noni gli zii eccetera che era quel lato della famiglia molto diversa molto diversa da quella di mio padre cioè quello mio padre era l'opposto di quella di mia madre erano due mondi che infatti molte volte mi sono chiesto ma come si sono incastrati perché la famiglia di mia mamma è una famiglia normale di tutti impiegati mio nonno era sindacalista mia nonna lavorava in un ospedale come segretario eccetera molto tranquilla molto serena anche con una vicenda del mondo speranzosa positiva no quella di mio mio padre invece era molto più cruda perché mio nonno marinaio e quindi stava nelle navi mercantili fuori per sei mesi poi tornava un mese poi altri sei mesi quindi mio padre mio zio non hanno praticamente mai visto cioè durante tutta la loro infanzia e poi una famiglia alla siciliana quindi fatta di regole l'uomo di casa la donna non poteva lavorare cioè mia nonna non doveva lavorare una famiglia molto severa molto severa e barra assente cioè nel senso non era a livello emotivo non era presente non si parlava di come stavi mentre l'altro lato quella di mia mamma molto più si parlava si era più sereno come ambiente ecco ok effettivamente una domanda poi cercando di capire io amo questa roba cerca di capire le persone cosa hanno dentro no arriverà a capire il tuo carattere d'oggi chi sei oggi sì a coccole tuo padre ti faceva coccole e ti dimostrava il suo modo fino all'età bambina sì poi è successo che quando io sono iniziato a diventare un adolescente ho iniziato a sfidare un po quest'ordine non abbiamo più parlato tanto non ci so più tanto affetto poi ogni tanto degli episodi no che mi ricordo con affetto tipo il mio 18 anni 18 anni è stato bellissimo mio padre organizzato la festa è stato molto bello però sì diciamo oppure la musica il calcio che ci univa perché giocavamo a calcio insieme quindi ora sembra fatto un po un sembra un esagerazione rispetto alla famiglia di mio padre diciamo che mio padre era quello che voleva essere diverso dalla sua famiglia però certe regole certe radici ce l'aveva proprio insite non so come dire sono radici sono radici esatto ed è un lato con cui io ho sempre avuto questo confronto un po ama quindi dovrò essere così cioè diventerò così e questa cosa mia mi ha sempre turbato da una cosa che tuttora ci lavoro no perché mi hai mi ha parlato giustamente i regole tu mi sembri uno che c'è poi percezione cioè fuori delle regole te le crei tu delle regole interne da quello che cioè se una persona non ti conosco eh però da quello che sento che tu ti crei le tue regole e non si percepisci che sono giuste ok se no ti fai le tue dimmi se sbaglio sì sì no no è anche una di quelle cose che succede molto spesso a chi magari genitori separati che a un certo punto inizia a prenderti della responsabilità e farti un po da genitore quindi le regole te le misuri con te stesso ed è anche anche questo sembra una mia seduta di terapia però effettivamente discuto molto spesso di questa cosa in terapia cioè che io ho molto un senso del del dovere molto alto che mi che viene da quel lato il c'era la famiglia e mi sono creato queste tante queste regole tantissime per darmi un per coccolarmi in realtà perché genitori diamo le regole ma ti vogliono coccolare dandoti le regole non ti vogliono proteggere ti vogliono accudire quindi si è solo uno che si crea tantissime regole in testa e a volte sono un limite in te noto tanta consapevolezza cioè sai quando mi dici sono delle regole che possono essere un limite cazzo questa è consapevolezza tu sei sai che c'è no questa roba dentro di te andiamo avanti andiamo avanti scuole scuole fatto scuole guarda ho fatto tutte le prime elementari e medie le ho fatte nel paesino di mare a citrezza cicastello tra l'altro citrezza che famosa prima la voglia no si verga tra l'altro vabbè queste proprio sai quelle quelle cose che tu ce le hai sempre avute sotto gli occhi da piccolo e poi quando cresci le riguardi diventano delle delle allegorie delle immagini delle metafore molto potenti per raccontare un po' quelli che sono i tuoi problemi ma anche le tue potenzialità ecco proprio i malavoglie sono quella roba lì no c'è il nafragge della speranza c'è questa nave no in cui loro loro vanno per pescare quei lupini che devono ma non si allontana è difficile cioè contro arriva il mare la tempesta è un po una metafora molto molto che mi appartiene cioè che alla fine comunque non ce la faccio allontanarmi da certe cose ma in generale forse non ce la facciamo allontanarci troppo da dalle radici appunto perché sono radici esatto perché sono radici qualcosa che ti tira no quindi le scuole si le ho fatte in paesini di mare e tutti e due ho iniziato a fare musica all'elementario ho iniziato a fare il pianoforte c'era l'orchestra poi alle medi ho studiato un pochino di pianoforte però non ero molto non ero disciplinato non avevo voglia di studiare la musica mettendomi lì a leggere perché andavo molto ad orecchio quindi ascoltavo una canzone cercavo di riprodurla ascoltavo tanta musica ma tanta 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 c'è l'ottanta per cento della giornata c'è una musica io andavo in bagno avevo le cuffiette andavo a giocare a calcio il tragitto nella macchina staccavo le cuffiette giocavo a calcio le rimettevo cioè a scuola durante la lezione io non mi interessava per tutte le cuffiette poi se proprio volevo stare attento mettevo una cuffietta sì e una no per ascoltare se avesse chiamato il mio nome però io tutto il tempo ascoltavo musica tutto il tutti i giorni tutto il giorno e cantavo tantissimo ecco non hai scoperto l'uomo cioè quando hai preso consapevolezza che era amore primo ricordo del del mio cantare pare sia stato a cinque anni in un in un posto facevano questa cena con una band che suonava una cover band e pare che io non ho cinque anni sei sette anni mi sia alzato dal tavolo si è andato lì abbia chiesto il microfono al cantante e abbia cantato a cappella anima mia dei cugini campani facile tra l'altro quindi questo questo è un po sì ce l'ho sempre avuta c'è sempre avuto sei diplomato sì cosa è scientifico e dopo la scuola comincia a lavorare cosa fai guarda io ho iniziato a lavorare durante la scuola cioè d'estate facevo l'animatore ok che ora non si direbbe ma facevo l'animatore mi ha informato tantissimo quella cosa con l'esperienza mi ha formato tantissimo mi ha cambiato tantissimo io ho sempre sentito fiorello che ha fatto l'animazione effettivamente tutti quelli che hanno fatto l'animazione facci caso ne parlano bene perché è una proprio scuola di vita ma una cosa incredibile cioè 15 anni mi si è aperto un mondo del lavoro ma anche del rapporto con i colleghi l'apporto con persone più grandi perché ero il più piccolo sempre no in qualsiasi staff andavo ero sempre più piccolo 15 anni 16 anni quindi da un lato ti trattavano come piccolo ma dall'altro dovevi dovevi farti valere quindi ti forma tanto ti indurisce no ti da una bella corazza e poi deve avere a che fare con persone di tutti i tipi cioè dalle famiglie ai single ai trentenni ai bambini e quindi devi imparare a comunicare in maniera diversa e lo facevi da autodidatta non è che qualcuno ti diceva c'è la famiglia del nord fai così allora loro ti spiegano delle piccole regole cioè ad esempio una banale non si parla di politica religione calcio mai mai perché questa roba qui è lì sì altre piccole cose si chiama contatto cioè loro ti insegnano il contatto però posso insegnarti la base poi devi devi andare tutto e poi dopo la scuola sono andato a studiare a bologna al dams o poi alla fine ho fatto un anno però l'ho fatto questa scelta perché non avevo idea cosa fare non volevo fare niente in particolare cioè non avevo un desiderio tipo sì la musica ma non pensavo mai diventasse un lavoro no assolutamente come la vivevi scusami cioè nel senso tu non pensavi voglio fare musica e diventare il mio lavoro mi piace mi piace è una cosa anzi ero molto timido a riguardo rispetto alla musica cioè non è che ho mai fatto la cosiddetta gavetta l'ho fatta dopo però naturalmente ci iniziato che era veramente uno sprovveduto poi a farlo diventare lavoro ma per me era io a casa mi scrivo le mie canzoni al massimo al massimo la dedico una ragazza no ma non hai mai cantato in pubblico tiri mesi vita? nel quinto anno ho cantato che c'era questa occasione di fare questo spettacolo a scuola il classico spettacolo di fine anno però era una cosa carina non era la classica band che suoni no era carino era tutto uno spettacolo con c'era la parte c'erano le ragazze che ballavano la parte recitata io cantavo c'era una cosa una sorta di musical diciamo e lì cosa ho capito che mi piaceva avere l'attenzione cioè fino a quel momento pensavo che avevo ero molto timido rispetto a questa cosa no lì poi che è successo che è andata molto bene e io ho scritto questa canzone che in realtà era la mezza canzone e poi dopo il concerto mi hanno fermato tutti a dire no come la fai sentire la registi e quella sensazione ti è piaciuta quella sensazione mi è piaciuta e ho avuto anche l'attenzione della ragazza che mi piaceva lì è stato il colpaccio perché c'è avevo sottovalutato l'effetto che ti fa avere un riconoscimento cioè le persone vogliono avere un secondo me un piccolo spazio nel mondo e vogliono che il mondo glielo riconosca quando te lo riconoscono che hai un talento che hai una capacità o che sei capace in qualcosa la sensazione è incredibile e quella cosa mi è scattata in mente lì è scattato detto sai che cosa secondo me posso provarci posso provarci ma non sapevo neanche come non era mai stato in uno studio di registrazione ma è stato su un palco veramente c'erano il palco della scuola massimo poi quindi ho detto ok cosa devo fare cosa posso fare tutti ovviamente c'erano i talent hai preso sicurezza cioè lì immagino io ragazzino con le cuffie che vado a scuola sull'autobus ok e quindi mi piace ma immagina su un ragazzino che a scuola con le cuffie che ha questo sogno questa roba qui e prendo consapevolezza mi piace mi confermano il fatto che qualcosa di buono bene con il mio talento e li scatta vaffanculo ci provo quella roba lì sì sì è scattato questa questa cosa qui e quindi non è stato neanche così tanto consapevole il ci provo cioè è stato come che è figata cioè che è figata questa è una cosa che mi piace sentire cioè mi piace tornare a casa stare così c'è avere questa sensazione dentro no però ci provo era del tipo sì ma non si può fare cioè in realtà inizialmente il mio pensiero è una cosa non so neanche da dove iniziare non so come e quindi non sapevo iniziare l'unica strada che ho visto è detto vabbè c'è il talent anche lì ma figurati cioè nel senso sono non so diecimila persone che ci provano ora arrivo io che faccio lo stronzo di turno e e quindi l'ho preso veramente tipo un gioco ho detto vabbè anzi in realtà prima ancora di questa cosa è stata devo dare una risposta ai miei genitori devo andare a studiare dove vado a studiare economia non sono capace legge figurati materie scientifiche togliamoci le teste quelle umanistiche un po di più la letteratura mi piace ho detto vabbè ok il dams il dams di bologna e in realtà non l'ho scelta perché volevo fare quella cosa l'ho scelta per amore perché mi ero fidanzato con questa ragazza che era la il mio diciamo il mio primo amore dal primo dal primo liceo quindi cinque anni che ci siamo innamorati dopo cinque anni anche lei si è innamorata di me la perseveranza sì è quella canzone no capito quel concerto lì quindi tutto un po un incastro di cose però lei partiva a studiare a modena lei già lo sapeva che avrebbe studiato a modena biotecnologie e quindi io sono andato a mio padre detto sentivo sai che cosa vorrei provare un'esperienza a bologna ma in realtà era per stare vicino quindi ho scelto veramente il dams ma così l'amore fa fare ste robe poi guarda 20 anni da pazzi però poi alla fine tutto un cerchio perché come da lì a bologna ho provato x factor come fatto fai pensare però io nasco da zero famiglia povera nessuno non c'ho un maestro che mi diceva di là vai di là vai di là immagino te è uguale arriva bologna come come ho inviato la candidatura come hai fatto la prima fase l'ho fatto là c'è nel senso anzi in realtà io ho provato ho provato due anni il secondo è andato bene perché il primo anno era stato mio padre lui mi ha portato a x factor a napoli con la maria napoli e ho fatto questo provino è andato malissimo perché sono entrato ed ero tesissimo timidissimo la voce che è uscita a mala pena come ti chiami io lorenzo cioè ero proprio poi ero più piccolo poi con gli anni mi sono un pochino più lasciato andare ma all'inizio ero molto avevo paura avevo tanta paura terrore quindi è andata molto male e io sono uscito là dicendo vabbè ovviamente non è andata perché sono stato neanche ho cantato male ma a parte avevo visto negli occhi nella faccia di chi mi guardava un po l'espressione ma poi io mi sentivo male dicevo ma ma come io questa cosa la so fare cioè sono andato là tutto timido potevo fare molto di più molto di più quindi l'anno dopo poi ero a bologna invece con con la mia con la mia il mio primo amore ho detto sai che cosa soltanto ci riprovo ma soltanto ci vado non mi interessa come va va ma io devo uscire da lì che dico sono felice di quello che ho fatto dato il massimo ho dato il massimo poi non devo andare ok però io devo uscire da lì che dico ho dato il massimo a costo di sembrare troppo sicuro di me ma molto meglio un po più sicuro di me che è timido come quella volta tutto spaventato quindi ci sono andato ho fatto ho mandato questa candidatura online ma in realtà prendono tutti nella prima fase il problema è ci sono un sacco di candidature nella prima la prima fase sono tipo 8000 l'anno mio erano tipo 8000 li dividono in tante tappe in più giorni li ascoltano in 10 15 camere dove in ognuna ci sono due auditori e poi praticamente da questi 8000 fanno una scrematura tipo arrivano a 300 ma anche di meno perché poi sono quelli che vanno sul palco davanti ai giudici e fanno il provino quindi io una storia assurda per cui sono arrivato comunque sono arrivato come sono arrivato oggi cioè senza aver dormito perché ero un ospite il prima audizione l'avevo fatta a torino quindi sono andato a torino ero un ospite di un amico eccetera eccetera e se fatto tardi non riuscivo a prendere sonno agitato quindi arrivo la senza aver dormito entro com'è lorenzo di qua di là cosa fai scrivo le canzoni una avevo scritto una canzone scrivo le canzoni di qua di là e mi fa ma in italiano in inglese faccio in inglese ah ho visto tipo vabbè che devi fare tipo in inglese perché ovviamente ancora c'era quella condizione che in italiano l'italiano non potesse cantare in inglese fino a stiamo parlando di quasi dieci anni fa quindi non si poteva cantare in inglese se l'italiano faccio allora ho capito un po' dalla faccia faccio no ma mia nonna in inglese non è vero ma mi piace questa roba ho visto la faccia e ho detto faccio no mia nonna in inglese perché avevo una buona pronuncia avevo una buona pronuncia in inglese questo forse gliela posso chi c'era quell'anno come giudici no ma questo è arrivato dopo ancora prima ancora prima e quindi faccio questo edito in inglese poi che cosa canti ho detto modugno che cosa sono le nuvole questa è la prima audizione quella che non si vede ha fatto sta che io ho detto vabbè ok esco lì a sono soddisfatto poi mi hanno fatto fare un'altra audizione sempre quel giorno ma stavolta mi hanno ripreso ti faremo sapere via torno lì ci credevi lì è andata molto bene perché mi hanno fatto anche una video intervista la mia prima intervista dove se mi risento è terribile cioè praticamente perché già si sente l'accento forte figurati al tempo che non avevo concezione del fatto che venissi registrato no e poi venissi andato in tv ma perché comunque avevo lasciato stare questo e quindi si no vabbè va va è andata bene torno a casa passano tre quattro mesi niente hai smesso di crederci si ho smesso di crederci ho detto vabbè non va poi avevano annunciato le audizioni si faranno a bologna ho detto vabbè mi è arrivata la chiamata a bologna io stavo a bologna mi fanno a bologna c'è l'audizione dei presentati su palco giorno 8 ovviamente lì ho detto ok può diventare reale allora posso dire questa cosa ti posso dire michele bravi e ho visualizzato io che vincevo il giorno prima della della prima audizione ovviamente non era una cosa era un gioco per la mia testa però non so mi sono immaginato proprio la scena mi sono immaginato io lì che dicevo grazie grazie non so mi è venuto questo flash e mi sono nella mia testa vi è fatto un film sono andato la il giorno dopo accompagnato dalla mia ex giornata lunghissima arrivi a convocazione alle sede del mattino mi fanno cantare alle 11 e mezzo di sera tu immagini che quella tensione la tieni addosso 11 ore sei stremato infatti sono arrivato stremato sul palco timidissimo spaventatissimo entro lì vedo questi giudici vedo tutto il pubblico tremo tremo ma devo mi ricordo lì c'è la mia inclinazione naturale era tremare stavo tremando la paura allora poi ho pensato che la mia fortuna era stata quando sono tornato consapevole di me cioè quando sono tornato più sicuro di me era andata bene quindi tipo interruttori togli quello stato mentale perché non ha funzionato tu accendi questo stato mentale sì proprio frazioni secondo che anche quella capacità di adattarti sul momento che avevo imparato facendo il villaggio cioè capisci la situazione adattati e quindi lì mi è succeda una cosa detto dai e allora mi parliamo e vabbè l'audizione andata benissimo andata benissimo qui c'era il pubblico c'era il pubblico c'erano i giudici chi erano i tempi fedez mica vittoria capello e morgan quindi da catania arrivi di fronte dei personaggi sì 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 e come l'avevi no no terribile no terribile poi mica mica quello che mi faceva più impressione perché cazzo era una star internazionale capito gli altri sì mi facevano impressione ma mica mi faceva molta impressione perché lo guardavo poi guardavo con questa faccia sorridente e poi ovviamente è successo di tutto perché fedezza che si è messo a piangere il pubblico che si alza lì in piedi tutta una cosa esagerata esagerata un'emozione esagerata c'è dentro c'è presente quella cosa che dicevo quando sono andato al musico della scuola che avevo ricevuto quei complimenti lì è stato l'apice per me capito cosa hai cantato lì cantato che cosa sono le nuvole di modugno è il mio inedito che si muove aderi su guai ed era l'unico pezzo che ho scritto in realtà sì lì quando ho visto alzarsi il pubblico tipo come se si fosse risolto qualcosa dentro di me non so come dire lì è stato il momento in cui ho detto questa è la mia vita e pianto dopo come sei uscito caricato scaricato carico carico ho pianto da solo la notte cioè che non c'era la mia la mia ex era solo detto mi ricordo questa cosa ho detto bellissimo e mi sono messo a piangere poi è andato avanti poi è iniziato tutto il percorso serio no ci sono state altre selezioni sempre ansia e poi sono entrato nel programma ed è stato molto molto tosta perché ripeto io non avevo esperienze di nessun tipo ed era autoridatta sì sì ma anche dietro un microfono non c'ero mai stato c'è un microfono da studio io non ero mai stato a registrare un pezzo non sapeva cosa vorrei dire no quindi chi era il tuo coach lì chi è stato ok qual è la sono curioso io no qual è la cosa che più ti ha insegnato lui a non fidarmi nel mondo della discografia banalmente ora riuscendo rimanendo un attimo su x factor però c'è ad esempio x factor il fatto che ho fatto in edito in inglese è una mia scelta contro tutti perché loro quello che mi vengono a dire guarda che nessuno ha vinto come un pezzo in inglese non lo fanno in italia non va questa cosa guarda che i tuoi competitor se tu canti in inglese sono Ed Sheeran eccetera ma le persone l'hanno già apprezzato così quando ho fatto le audizioni devo fare in inglese no guarda facciamo in italiano ha scritto il testo cantante famosissimo ho detto non ha senso cioè io non posso cantare il testo di qualcuno ma poi in italiano mi sono presentato così devo essere onesto guarda tu rischi e pericolo è andato bene poi è stato il primo in edito in italia x factor in italia ha cantato in inglese che ha vinto io all'inizio ascolto cioè nel senso non è che dico no a prescindere o vado contro a prescindere ascolto poi c'è un momento in cui alla fine io penso sempre questo esempio anche nella discografia tu fai un lavoro d'ufficio ti va bene il mio progetto ti va male il mio progetto cambia poco nella tua vita nel senso che poi alla fine dell'anno dici ok ho fatto dieci progetti sono andati bene due vanno male il mio bilancio è positivo per me no perché un errore nel mio percorso rimane a me per sempre o comunque ci influenza tanto quello che il mio futuro quindi posso io sbagliare ma preferisco sbagliare io sono stato cociuto ho voluto fare una cosa come dicevo io piuttosto che sbagliare perché ho fatto quello che dicevi tu quindi c'è tanto c'è tanto di me dentro per cui il giudizio negativo su una cosa che tu ci dedichi cinque minuti del tuo tempo a giudicare quella cosa facciamo così facciamo io ci ho messo un mese a ragionare su quella parola molte volte mi vedo vedo che chi fa parte chi ha ruoli di potere nella nella musica ma anche nel nell'intrattenimento non ha molta competenza in quella in quella cosa lì capito c'è il giudizio è veramente fuori fuoco rispetto alle cose mi rendo conto sempre più spesso di questa cosa non so come dire non lo capisco è molta intelligenza emotiva tu e hai molta consapevolezza e un'altra cosa che ho notato leggi le situazioni le facce agli altri hai continuato a dirlo no ho letto anche la non può aspettarti dagli altri questa è una è una skills è una calibrazione si dice tecnicamente faccio corti comunicazione ma il cazzo che vuoi ok anche quando parlavi di visualizzazione la tecnica tu riesci a calibrare le persone secondo te lo aspetti anche dagli altri un po ci rimani forse in quel mondo molto meno rispetto si si un po quello è un faccio un passo di superbia rispetto a questa cosa o di presunzione rispetto a questa cosa io sono sicuro che se avessi ascoltato le loro le loro richieste non sarei qui a parlare con te oggi non avevi fatto 10 anni di carriera cioè questo è il mio problema capito mi rende triste questa cosa dico come se io avessi ascoltato ce ne sono sicuro convinto se avessi ascoltato tutto quello che mi è stato consigliato e detto da quel tipo di mondo io non avrei fatto già 10 anni di carriera cioè dopo un anno avrebbero riuscito il contratto mi avrebbe detto ciao mi libera su strada ad esempio io banalmente cioè ho detto per esempio per me è stato un messaggio chiaro io non lo faccio un album ogni anno io non ho cose da dire ogni anno per fare un album cioè io non posso non ho il tempo per cercare di fare nuovi suoni in un anno ci saranno volte che magari faccio anche tre album in un anno se c'ho la possibilità se c'ho la creatività per farlo ma magari ci un album ci metto quattro anni questi sono i tempi io artistici poi capisco quello che viene chiesto rispetto ai tempi e quindi io cerco di mettersi tutta la buona volontà per farlo per farlo in quest'ottica però deve essere comunque deve partire dal fatto che sono convinto dell'arte capito perché sennò diventa un prodotto allora faccio il mestierante non io vedo persone come te non sei stato non è mai avuto una guida un mentore che t'ha portato si è creato no e nella mia parte quello che faccio c'è un cazzo di nessuno io ci provo cioè vado le cose vanno bene si fattura tanto la tua passione nel canto c'è un'altra cosa quando quando no no è che per me aiutare le persone la comunicazione il vedere prendere progetti farli salire ma la vera passione c'è un ascoltare le storie poi tutta questa roba la metto nel lavoro cioè perché va bene perché con le persone mi piace ascoltare piace imparare quello che tu mi insegnerei oggi per me lo porto in altri mille miei ambiti no però la sensazione tu hai vinto x factor la sensazione di essere di fronte a tante persone è uno dei miei sogni hanno fatto evidenti mille persone ma la si parla di robe grosse che sensazione si prova ad essere lì si era fatto il culo dentro hai provato quando hai vinto beh c'è la risposta più vera ma anche quella più banale è felicità immensa perché c'era tutta la mia famiglia quindi felicità immensa no e come allora sul momento sono crollato perché detto allora vera è successo c'è allora non so come come dire è difficile a spiegare perché qualsiasi poi cosa che cerco di dire se poi risulta alla fine banale però è la verità cioè quella visualizzazione che ho visto è stato veramente questo film c'è successo quindi è stata un'emozione una gioia immensa gioia immensa quello che dici tu la visualizzazione è una tecnica di comunicazione che si utilizza non so se lo saprai no 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 normalmente il calciatore bla 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 ma anche grosso mondale 2006 ok rivede le situazioni che il cervello non sa di conoscere ciò che è vero da ciò che è pensato fortemente se tu prima lo rendi vero qua ma vero veramente e diventa un credo una fede lui gli deve una direzione e quindi lui lo vede vero lo vede vero e la percentuale che tu raggiungi poi quella roba lì diventa vera capito tu l'hai già fatto senza saperlo quando io intervisto prendo ascolto le persone avete voi che comunque voi in generale persone successo per successo con una prova stratta lo so avete gli schemi mentali che fate senza sapere di farli e sono molto comuni io sta cazzo roba devo studiarla voi capito quindi capire quella quindi la visualizzazione ho dovuto studiarla l'ho vista l'ho studiata prendo conferma prendo conferma e la replico e poi faccio un'altra domanda tu avevi consapevolezza del successo quel momento che hai vinto magari là c'erano milioni di persone che guardavano lo sapevi o eri una cosa che non riuscivi a percepire ancora? beh bisogna dire quando ti riferisci c'è sul momento lì non ho pensato a quello subito dopo già l'ho capito ok sì il rapporto con il successo iniziale non è stato dei più felici perché si è trasformato da quella sensazione di oh che bello mi riconosco che esisto nel mondo no? mi danno gratificazione per qualcosa di bello comunque che faccio a che insomma non c'è non c'è limite capito è sono un po' di tutti tutti sanno qualcosa di me che io non so di loro sì non ero cosciente del successo ma guarda la vera botta di successo è stata Sanremo sì? sì dopo Sanremo cioè non potevo girare dopo Sanremo camminare per strada era terribile come è andata Sanremo? è andata bene non sono la sensazione intendo io l'emozione più forte sì? sì la gioia più forte è stata la vittoria di X-Factor ma l'emozione più forte è stata Sanremo io giuro quel palco non... quel palco è incredibilmente difficile sotto quale aspetto? è emotivo non riesce a controllarlo ma dici ma come ho fatto Piazza del Duomo a Milano Piazza del Popolo a Roma centinaia di migliaia di persone quel teatro saranno 300 persone è difficilissimo ti manca il fiato ma tu dici io guardo il secondo anno che ci sono andato mi sono allenato sul tapirulan cantando la canzone perché sapevo che mi sarebbe mancato il fiato nonostante ero pronto molto di più mentalmente sono arrivato là incredibile tu guardavi Sanremo da piccolo? sì sì ok quindi là non era tanto le 300 persone ma era il fatto di trovarsi in quella condizione lì che tu vivi da piccolo e dici ma che cazzo mi sta succedendo no? quello è anche la giovane età perché se ovviamente 19 e 20 capito? bambino e non fai neanche gestire le posizioni no 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 tra 19 e 20 non lo sa gestire non lo sa gestire e per quello è troppo quello è stato troppo cosa ti ha insegnato Sanremo? che c'è sempre una sfida più tosta pensavo di averne fatto una prima di aver vinto X Factor c'è sempre una più grande no? ci pensavo X Factor è il massimo incredibile che cosa è successo incredibile arriva Sanremo e deve avere una sfida dieci volte più difficile ti spaventano le sfide? no 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 le sfide no il risultato delle sfide sì però no no come ci usavamo il primo e il secondo? il primo fatto decimo ok però il pezzo è stato il secondo più venduto quell'anno sì? cioè il primo è il volo che aveva vinto il volo ha vinto e poi il secondo è il mio pezzo come vendita e poi secondo l'anno ho fatto quinto ovviamente mi piacebbe tornarci perché adesso sono là sono è maturato sì io infatti guarda ora ho questo ricordo traumatico di quest'ansia di il fiato che è corto ma secondo me ora ce l'avrei ma non così c'è stato un prima ovviamente credo di sì un prima X Factor saremo e un dopo non so magari eri nell'hype come hai vissuto la sensazione? se l'hai vissuto ma guarda ti dico a tutt'oggi la vivo cioè la prima volta che mi sono fermato a pensare quello che sto facendo e avere consapevolezza di quello che sto facendo non era soltanto il primo pezzo vinto il fatto il secondo vado a Sanremo perché così è stata il terzo va in radio non so neanche scrivere in italiano ma il primo il primo pezzo in italiano io col primo pezzo scritto in italiano sono andato a Sanremo cioè tu pensa che l'ho scritto nel camerino del forum durante la finale di giorno sono andato a Sanremo col primo pezzo che ho scritto in italiano che è una porcata secondo me perché porca miseria a parte c'è proprio il rispettoso nei confronti della gente che fa musica che si spacca per avere un piccolo spazio che comunque ha molto più capacità di quello che posso avere io e io perché scrivo il primo pezzo ma siccome esco a X Factor subito palco dei big a 19 anni questo è un mio parere personale che anche lì ho avuto questa sindrome dell'impostore per un bel po' di tempo tu sei autocritico a Manetta i tuoi genitori come erano come ad oggi cosa pensano di te come l'hanno vissuta questa cosa ho perso mio padre due anni fa quindi è stato un momento più difficile della mia vita cioè è tuttora tuttora non mi sono ripreso cioè considera che lui giovanissimo è morto e poi con un rapporto non risolto capito quindi non ho avuto il tempo di risolvere il rapporto cioè negli ultimi anni mio padre era stato molto vicino dal primo momento di tutto questo percorso nel lavoro in un certo punto ti è andato troppo vicino troppo ingombrante perché io crescevo quindi 19-20 anni ancora mi proteggi 22-23 inizio a convivere con la mia ragazza inizio ad avere la casa le tasse che già avevo da 19 anni però inizio a diventare un po' più di scelte che voglio fare voglio prendermi più spazio e allora mi stavi stretto allora i rapporti sono inclinati addirittura noi non ci siamo parlati per due anni tra un anno sì e un anno no e ovviamente questa cosa è stata una botta emotiva molto forte che ha portato una bella depressione bella importante quindi ora tuttora mi sto faccio su e giù ogni tanto ora sono un momento giù ma perché sono giù perché è uscito il disco da poco e quindi ora è come se postpartum capito postpartum è tipo la depressione totale tu parli di depressione scusami sono molto sensibile a questa cosa ho avuto la depressione l'ho vissuta non male ti parlo proprio di la depressione è una cosa che se non vivi tu non puoi capire e nessuno può giudicare dal mio punto di vista mi piacerebbe confrontarmi io ho visto proprio una sensazione di volevo suicidarmi volevo proprio ammazzarmi cioè robe brutte quando ho avuto la depressione non riuscivo a gestire i pensieri ed erano i pensieri a gestire me e quindi quella lotta da uno che insegna la gestione del pensiero a una quella è la mattia ti ammazza ti dice tutte le cose negative e come se tu diventa vero ti crei questa lotta io l'ho visto come tutti i giorni cercavo di dormire ma c'era una tigre che ogni volta diceva oh ammazzati oh fai schifo mi guardava attorno e le persone ce l'avano con me credo che la depressione mi abbia donato una cosa che nel tuo nel mio nel tuo più di altro magari è la sensibilità nel leggere le situazioni la sfumatura l'energia sono molto più sensibile a volte mi devo tappare le orecchie perché io sento se uno mi arriva a 20 metri io lo sento la depressione come in realtà ho avuto la depressione ma non ho notato la depressione notavo l'ansia ok si manifestava in maniera diversa si manifestava in ansia si manifestava in ansia anzi di tutto cioè dal farmi la doccia uscire con la macchina ansia di mangiare un boccone se no soffocavo io questa qua ce l'ho sempre accanto questo nonostante il tempo ho sempre l'acqua cioè io dovevo essere almeno a tre metri di distanza dall'acqua tu dici perché non lo so nella mia testa se un infarto l'acqua mi aiuta ovviamente non funziona così però questa è la sicurezza si ho conosciuto persone che smettevano di fumare e per 30 anni tenevano il pacchetto di sigarette in tasca si è uguale ma il concetto è anche quello che poi alla fine come hai detto tu sono cose nella testa non sono reali ma sono realissime sono verissime ciò che tu pensi tanto diventa vero però si e quindi è tosta poi io vabbè la terapia questa è la cosa che mi sta aiutando io ora ho guai che mi tocca la terapia cioè io ogni settimana devo andare in terapia e tutti gli impegni li sposto perché quella è la mia valore primo beh ti sei prendo cura di te hai messo te il primo però sai che ci ho messo un sacco cioè perché fosse stato per me numero uno avrei dovuto fare da solo nella mia testa è uguale purtroppo devi risolvere questo problema se solo tu come lo so creato ma lo trovo io esatto solo io posso superarlo divento fuori ti giuro che ho capito che la più grande si sta avanzata nella vita e non saper chiedere aiuto e invece la tua mamma va in giro per Catania a petto fiero mia mamma ora è preoccupata prima si era tutta mia mamma a un certo punto ha detto sai che cosa è arrivato in un momento della mia vita che lei non ha potuto studiare quando era giovane ha subito iniziato a lavorare che vado all'università quindi si è iscritta all'università a 50 e ha fatto la triennale a Catania tutta da sola o l'avete spinta non l'avete spinta voi no noi dicevamo no sei pazzo cioè assolutamente ma che cosa fai alla tua età ma fai il cucito cioè nel senso non lo so la prima cosa mi è venuta in mente lei fa il cucito quindi si è ha fatto la triennale e ovviamente aveva tutte le colleghe giovani no tutte ragazze di vent'anni quindi lei era tutta no che la chiamavano nei gruppi su whatsapp gruppi whatsapp è rinata anche no si 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 un botto un botto è orgogliosissimo io direi quando si è laureata lei è orgogliosa di se stessa quindi è molto bello e lei si è orgogliosa di me ora è in una fase molto protettiva perché ovviamente mi ha visto in difficoltà io anche lì ho imparato a non nasconderglielo cioè con lei ho parlato proprio chiaramente ho detto mamma guarda io terapia cura farmacologica eccetera 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 e lei ovviamente queste cose le mettono in ansia le mettono in agitazione quindi adesso è super apprensiva poi lei è giù lei è giù e quindi avere il figlio qui si crea anche lei un chissà come sta chissà se dorme poi io si parlo ma parlo quando ho le solite domande come va si ok tutto a posto un po' è il rapporto con il genito la mamma lo sente e tuo fratello? ma fratello il numero cioè nel senso il numero uno come te lo dimostra lui è Osaka? lui non lo dimostra lo fa a suo modo si ma non mi interessa che lo dimostri capito cioè non ho bisogno di lui l'amore è così forte si è troppo forte capito che bella questa cosa si 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 io per mio fratello è l'unica persona veramente che cioè tu dici si la mamma la fidanzata l'amore è amore però però lui magari non è anche si definisce in maniera diversa noi definiamo amore a volte ti dobbiamo generalizzare come dici tu l'amore per la mamma è una cosa l'amore per la fidanzata è una cosa l'amore per il fratello è un'altra cosa magari si 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 quindi non è che è una cosa sbagliata se tu avessi qua il tuo papà cosa cosa gli diresti? sei rimasto con qualcosa non detto non so sai che cosa che ora sono nel dolore ancora quindi forse non vorrei parlargli ora nel dolore capito vorrei parlargli nella nella guarigione del dolore cioè nonostante sono due anni tu dici vabbè ok uno impara e ora mi sento anche in una fase della vita dove sono felice sono veramente felice cioè non mi manca niente amo la mia ragazza amo il mio lavoro amo la mia casa il mio fratello sono felice grato grato tantissimo grato non mi manca niente economicamente sto tranquillo proprio felice faccio il lavoro dei miei sogni è una cosa che anche lì è switchato dopo un po' di tempo adesso sono in questa fase però dentro sono ancora nel dolore totale di questa di questa perdita perché non non è facile perché ho perso il modello col quale mi scontravo e mi incontravo cioè era il punto di riferimento nel bene e nel male questa cosa ti fa onore ed è una cosa per quanto riguarda me iper matura e se avessi qua il tuo Lorenzino di di cinque anni Lorenzo fragola piccolino così consigli gli daresti se gli diresti qualcosa cambia qualcosa rimani così no rimani così però direi che a un certo punto nella vita arriverà un momento in cui dubbiterai tantissimo di te tantissimo che non crederai più niente in te stesso per niente cioè avrei proprio zero forza in credere in te zero e lì devi tirare devi resistere devi resistere perché una piccola partita ancora ci deve credere capito deve comunque continuare a crederci non è facile è proprio piccolissimo anche se è piccolissimo e come finiresti questa roba qui perseveranza oppure c'è un nome lì che tu sapete lo dico destino perché sempre qua quando sei il nome vai 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 io il podcast l'ho chiamato pane e cazzino perché perché credo nella mia vita quello che vedo è la cazzino è quella roba lì quella grinta lì non molla è un misto di cose non c'è una definizione il misto di andare avanti il misto della grinta quella roba lì che ti fa vincere quella roba lì che in quel momento della vita ti fa andare avanti contro tutto contro tutti contro ogni pensiero contro te stesso e mi chiede tu c'è la cazzino e ringrazio ma mai grazie ringrazio te e ti posso dire tranquillamente che è stata una roba intensa mi hai insegnato tantissimo hai la guerra in testa è una cosa positiva per quanto mi riguarda perché mi vedo mi vedo uguale se anch'io noto un sacco di cose in comune grazie e vedo sei naturale sei empatico fai un catturice quello che senti è tanta consapevolezza poi mi sento proprio che tu dici una cosa poi ci pensi poi la ragioni sei vero e sei profondo non dirtelo io ti avrà già detto io non devo niente di dire sta roba qua come quando a volte dico sei un coglione sei un coglione vabbè non penso che ero un ospite comunque è persona però sei un coglione o bene hai avuto culo però sei un coglione tendo ad essere come te sempre vero magari non te lo dico ma magari te lo faccio notare per il mio punto di vista io quello che ho sentito è che ho imparato una marea di cose e cercavo ogni volta che ricevi una cosa di medesimarvi in quel momento la tua vita quando hai vinto quando visualizzavi con il tuo primo amore quando eri con le cuffie immagino anche che chi guarda si rivedrà in te sì anche quando non c'è quasi non vedi neanche la speranza tu però devi resistere perché a volte ci sono cose che devi tenere duro devi crederci a volte invece ci sono cose che devono solo passare devi lasciare andare devi fare che passi arriva la tempesta poi a un certo punto arriva l'arcobaleno cioè nel senso quindi a volte devi resistere a volte devi credere che c'è l'arcobaleno dietro quelle nuvole anche se non lo vedi e a volte invece devi solo aspettare che queste nuvole passano e poi c'è una bella giornata è difficile però io ho imparato a dare un nome questa cosa che è fede e non c'entra niente con quella religione la fede credo che sia quella cosa che tu non senti non vedi ma che devi avere e devi crederci ti fa credere prima o poi succede qualcosa di avere fede e qualcosa accada che non c'entra con la religione il problema è che non potendola vederle e non potendola toccare va proprio in qualcosa di tuo interno devi affidarti affidarti fede Lorenzo ti ringrazio di cuore di essere stato qui certo che come mattina nel senso senza pensata forse erano amici di pomeriggio sei era più a discorsi di pomeriggio no scherzo invece è stato anche leggero è stato niente ti ringrazio veramente a nome di tutti grazie a voi e ti ringrazio devo dire una cosa che non è scontata che quando ti abbiamo invitato tu sei stato meraviglioso e non è da tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti